Benvenuti nel video dedicato alla creazione del collo a scialle utilizzando il configuratore presente in TTCAD L3. Questo collo può essere creato per qualsiasi corpetto presente in TTCAD. Io come esempio utilizzo il corpetto base di tipo C, clicco su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi si apre questa finestrella che mi chiede, vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul Sì. Mi porta all'interno del configuratore presente in TTCAD L3. Questa è la pagina misure. Per creare il collo clicco su questa iconcina. Sotto c'è scritto Applica collo o cappuccio. Mi porta all'interno della pagina. Qui ho la possibilità di andare a realizzare diversi colli. Questo video è dedicato al collo a scialle. Clicco. Il programma mi ha già creato il collo a scialle. Una cosa da prestare attenzione è che la costruzione di questo collo va a modificarmi il giro collo. Va a spostarmi di un centimetro il punto del giro collo sulla spalla, sia del dietro che del davanti. Perciò se io voglio andare a modificare il giro collo devo tenere conto di questo spostamento già presente. Altezza collo 5 centimetri. Si riferiscono questi centimetri all'altezza collo. Questa parte qui. Inseriamo 10 centimetri. Faccio Applica. Il programma mi ha modificato la mia altezza collo. Inizio linea piega. Distanza da giro collo 20 centimetri. Questi 20 centimetri si riferiscono alla distanza che c'è tra il punto P1 e l'inizio del mio collo. Inseriamo una misura 30 centimetri. Faccio Applica. Il programma mi ha portato l'inizio della linea piega verso il basso. Se io vado a selezionare Personalizza ultimo collo mi si abilita questo pulsante. Cliccando mi porta all'interno della pagina collo a scialle. C'è un video dedicato a questa pagina. Io qui posso andare a modificare completamente il mio collo. Una cosa molto utile è questa possibilità. Mostra anche collo piegato. Cliccando mi fa vedere il collo piegato come lo vedrei sul tessuto. Conferma. Clicco su Crea progetto. Ecco qui che ho il mio davanti con il collo a scialle e il mio dietro. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!